Francia, anni 80 del XIX secolo. Il movimento impressionista sembra aver esaurito la sua carica propositiva ed essere arrivato alle sue ultime manifestazioni. Nasce il post-impressionismo che non è un movimento ma un termine convenzionale usato per individuare molteplici esperienze figurative sorte dopo l'impressionismo. Molti pittori ed esponenti del gruppo impressionista sviluppano un proprio linguaggio espressivo e prende forma l'idea di superare il modo impressionista di guardare la realtà. Cezanne espone con gli impressionisti ma i suoi dipinti mostrano una certa originalità rispetto a quella del gruppo. Lui non si limita a riprodurre l'impressione ricevuta dalla realtà ma indaga la realtà e la scompone in forme e colori. Seurat mette a punto una nuova tecnica, il puntinismo. Signac si converte a questa tecnica e con Odilon Redon, il principe del sogno che diventerà il maggiore esponente del simbolismo, fondano la società degli artisti indipendenti. Toulouse-Lautrec coglie i tratti caratterizzanti delle persone e li fissa mediante una stilizzazione formale. Van Gogh elabora una tecnica propria capace di dare forma alle sue immagini interiori e Gauguin ricerca la purezza e la semplicità ispirandosi alle sculture primitive e alle stampe giapponesi. Ci soffermiamo su Gauguin. Reduce da un viaggio in Martinique a soggiorno in Bretagna a Pont d'Aven e raduna attorno a sé un gruppo di giovani pittori. Emile Bernard, Louis Anquetin, Charleval, Ernest Pontier. Nasce la scuola di Pont d'Aven, non una scuola di pittura, ma una scuola di pensiero frequentata anche da Seurat, Cézanne, Van Gogh e Redon. I temi fondamentali discursi ed elaborati a Pont d'Aven sono il rifiuto della coppia del vero, l'esaltazione della memoria e dell'immaginazione. La ricerca di una dimensione più nuova di fare pittura, attraverso un avvicinamento all'esotico, in particolare all'arte dei giapponesi Utamaro e Ukosai, che avevano affascinato anche gli impressionisti. Altri temi di discussione, il rifiuto di uno dei pilastri della pittura accademica alla fedeltà coloristica, ovvero il rifiuto dell'imitazione dei colori della natura. Un soggetto non deve assumere il colore della realtà, ma quelli della sensibilità del pittore e dai suoi obiettivi di comunicazione. Anche la prospettiva viene messa in discussione. La prospettiva deformata di Cézanne suscita grandi interesse come la sua infedeltà al colore. Cézanne, a proposito di fedeltà coloristica, scriveva, C'è una logica colorata, ma il pittore non deve obbedire a lei, ma alla logica della sua mente. Da Pont d'Aven prende le mosse il gruppo artistico dei Nabi, i profeti. Giovani allievi dell'Accademia Julien si recano a Pont d'Aven per conoscere Gauguin. Tra questi, Paul Serousier, che, utilizzando una scatola di sigari come supporto, realizza un paesaggio non convenzionale. Dipinto con colori puri e forti contrasti cromatici, il bois d'amour. Al primo momento sembra una massa di colore, ma osservando attentamente il dipinto si possono individuare gli elementi del paesaggio. In alto a sinistra il bosco, la strada trasversale, una fila di faggi e sulla riba del fiume un mulino. Tornato a Parigi, si confronta con i compagni di Accademia e nel 1888 con Maurice Denis, Pierre Bonnard, Paul Ranson, fonda il gruppo dei pittori Nabi, profeti che rivendicano per l'artista la libertà dagli schemi accademici ed esaltano la libertà compositiva, la semplificazione della forma e l'uso dei colori puri, libertà che traghetterà la pittura nella dimensione moderna. Il gruppo si scioglie nei primi anni del Novecento. Ranson, che non si era completamente integrato con i Nabi perché orientato all'occultismo, magia e spiritismo, diventa attivo in mille campi e si applica soprattutto alle arti decorative. Sérusier e Denis modificano il loro linguaggio pittorico e conoscono una certa decadenza. Sérusier lavora come scenografo, si dedica all'arte religiosa e scrive un libro sulla teoria del colore, la bici della pittura. Anche Denis lavora come scenografo, illustratore ed insegna in un'accademia privata, diventando anche uno dei maestri di Tamara de Lempicka. Chi consegna alla storia la fama del movimento sono Félix Vallotton, Édouard Royard e Pierre Bonnard, definite dal gruppo come la triade anomela. Questi pittori aderiscono ai principi fondamentali del movimento, ma dimostrano scarso interesse verso i temi mistici o teosofici a cui sono legati Sérusier e Denis ed altri componenti del gruppo. Félix Vallotton, svizzero, nativo di Lausanna, vive e si forma a Parigi. Come Ouillard e Bonnard non è solo un pittore, lavora come copista al Museo del Louvre e si specializza nella coppia di opere di Bronzino, Dürer ed Ingrès. Esegue Xillographie per la Revue Blanche, rivista a cui collaborano altri componenti del gruppo. Per questa attività i nabì furono chiamati anche Painter Graveur, pittori incisori. Vallotton fu anche scrittore di romanzi e testi teatrali ed anche un eccellente critico d'arte. Sposò una ricca vedova, madre di due figli e nipote di uno dei galleristi più importanti di Francia, assicurandosi una vita agiata. Per molti Vallotton è stato un enigma, uno svizzero che non dipinge mucche o vette alpine, un parigino che non ama la frivolezza, un solido borghese con simpatie anarchiche, un uomo difficile, un pittore affascinante, che nel sintetismo dei nabì trova elementi a lui congeniali. La sua prima opera importante è Il bagno in una sera d'estate. Nell'opera è esaltato il taglio asciutto e spigoloso delle figure, il disegno è preciso, le inquadrature sono audaci, la composizione è libera, le campiture sono piatte, i colori sono puri e raffinati. Come evidente in questi lavori Vallotton sviluppa uno stile personale solido, risoluto, che contrasta con i caratteri languidi e svaporati di altri pittori nabì. In questo riquadro a sinistra una donna allo specchio e a destra la bianca e la nera, un dipinto che nell'impostazione ricorda l'Olimpià di Manet. Altri due dipinti, a sinistra il provinciale o il caffè e a destra il waltzer, uno dei suoi primi dipinti nabì che raffigura delle coppie che pattinano sul ghiaccio. Le coppie sono intrecciate, insinuose e lissi e la moltitudine di minuscoli punti multicolori nello spazio che li circonda contribuisce ad evocare le luci ed un mondo fiabesco. Il pittore ci ha lasciato anche dei paesaggi stregati dalla luce, da cui talvolta emergono dei personaggi immersi in un'atmosfera metafisica surreale, quasi una rappresentazione dell'inconscio o di un sogno. Un esempio è il dipinto Bambina che gioca con palla. Un giardino incantato, grandi superfici di colore ocra, che contrastano con il colore delle piante e delle loro ombre. Una bambina in piena luce sta rincorrendo una palla. È un'evocazione della spensieratezza dell'infanzia o è un'inquietudine generata dal vuoto attorno alla bambina. Il pittore ci ha lasciato anche paesaggi illuminati dal sole mediterraneo dipinti durante i soggiorni in costa azzurra a Cagnes-sur-Mer. Degli splendidi interni che sono stati oggetto di studio e reinterpretazione da parte di Edward Oper. Una magnetica serie di tramonti marine realizzate con superba essenzialità, chiaro di luna e tramonto. Durante la prima guerra mondiale si reca al fronte. L'esperienza bellica lo porta a dipingere opere cariche di elementi simbolici come Verdun 1917. Il pittore, affetto da disturbi neurologici, si spegne nel 1925. Édouard Huillard frequenta il liceo, poi l'accademia privata Julien, ed entra nel gruppo dei Nabì. Poco più che ventenne, realizza delle composizioni dalle inquadrature inedite e dai colori audaci e violenti, praticando una sorta di astrattismo. Huillard, grazie a Nabì, entra in contatto con il teatro d'avanguardia e si occupa di scenografia e decorazione, attività che influenzerà la sua pittura sia nella forma che nel contenuto. Dopo lo scioglimento del gruppo affronta temi che lo rendono famoso, le rappresentazioni del quotidiano, tante piccole scene di vita piene di poesia. Dipinge un mondo di interni silenziosi, salotti con tappezzerie floreali. È un pittore intimista, raffinato ricercatore di sfumature fuse in un'unica armonia. Anche lui, come Vallotton e Bonnard, collabora alla Revue Blanche. Esegue, per Alexander Nathanson, il fratello del direttore della rivista, nove pannelli per la sua sala. L'opera costituisce un elemento magistrale della straordinaria abilità di Huillard, che per queste opere utilizza per la prima volta la tempera a colla. Un preparato che usano i decoratori, una miscela di acqua, colla, gesso di Bologna e bianco di Medun, che può essere esteso su tavoli di legno ottenendo, con i colori a tempera, un effetto opaco simile all'affresco. Huillard è ricercato dalle gallerie d'arte. Inizia una relazione con Lucie, la moglie dell'amico ed importante gallerista parigino Jos Essel. Lei diventa la sua modella ed il marito diventa il gallerista esclusivo per la vendita delle sue opere. Per 40 anni Lucie fu la sua amante e modella prediletta, come testimoniano questi quadri in cui compare con il passare degli anni e delle mode. Il pittore raggiunge l'apice della carriera dedicandosi in modo originale al ritratto, come lui stesso sottolinea, non esegue i ritratti ma dipinge le persone nelle loro case. Negli ultimi anni di vita torna ad occuparsi di scenografia e decorazione per il teatro Chaillot di Parigi e per la Società delle Nazioni di Ginevra. Il pittore resta comunque un artista del suo tempo, con una visione pittorica straordinaria non solo per il mondo dei Namis ma per tutta l'arte moderna. Pierre Bonnard Conclusi gli studi iniziali si iscrive alla facoltà di legge e si laurea. Contemporaneamente frequenta l'Accademia d'Arte Julien e l'Accademia de Beaux-Arts. Affascinato dalla nuova cultura spiritualista e simbolista, entra nel gruppo dei Nabi. Si entusiasma al linguaggio di Gauguin, si fa sedurre dalla moda delle stampe giapponesi e da un'impostazione tutta nuova del dipingere, ma evita, come del resto Vallotton e Huillard, di lasciarsi dominare dalle favole medievali di molta cultura simbolista. Bonnard inizia come brillante creatore di manifesti e gareggia con Toulouse-Lautrec nel disegnare bellissime silhouette. Contrariamente a Lautrec, ama osservare le fanciulle della buona società che passeggiano in città o nei giardini e disegna gli aspetti della vita moderna di Parigi sia su carta che su tela. Nel riquadro vediamo i quattro pannelli destinati ad un paravento, le ragazze in giardino o le quattro stagioni, lavoro conservato al Museo d'Orsay. Altro esempio, il grande pannello donne che giocano a croquet o il crepuscolo, in cui raffigura un momento di svago dei suoi familiari. Lo stile è un misto tra impressionismo e stampe giapponesi. Grande amico di Huillard, con lui e Denis condivide l'atelier di Montmartre. Come Huillard si dedica alle scenografie teatrali, alle decorazioni ed alle illustrazioni, anche di libri tra cui un volume di poesie di Paul Verlaine. Fu il pittore più amato ed apprezzato dal vecchio Renoir. Scelto il gruppo dei Nabin, Bonnard come Huillard resta estraneo alle bagarre delle nuove avanguardie artistiche. La sua pittura trova ispirazione nella realtà concreta della vita quotidiana e familiare. Dipinge parecchi nudi. Sono opere eseguite da un artista innamorato. La modella è sempre Mart, compagna della sua vita, che continua a dipingere con aspetti fanciulleschi anche quando lei è ormai sessantenne. Il nudo di destra, donna alla toletta, è un dipinto dalla composizione sofisticata. In chiave moderna rappresenta la casta Susanna ritratta di spalle ed in posizione frontale. Grazie al riflesso nello specchio il pittore gioca sull'inquadratura del corpo ritratto di tre quarti e tagliato verticalmente in due dalla specchiera. Dalla lettura degli interni di Bonnard traspare l'anima del pittore, un uomo calmo, sereno, ma pervaso da una profonda malinconia causata soprattutto dalla delicata salute della moglie affetta da Tisi. Per questo motivo lascia Parigi. Trascorre molto tempo nella sua casa in costa azzurra. Affascinato dai colori mediterranei, modifica la sua tavolozza, l'intensità cromatica dei suoi dipinti diventa quasi incandescente. Riproduce la luce del mezzogiorno senza trascurare la dimensione emozionale del colore, come testimoniano queste opere dove domina il giallo in contrasto con gli altri colori, rendendo particolarmente effervescenti questi dipinti. Il modernismo di Bonnard è apprezzato moltissimo da pittori come Matisse. In barba ai critici e alle mode, Bonnard per più di 40 anni è stato un protagonista della scena artistica mondiale. L'appartenenza al gruppo Nabì per Bonnard, Huillard e Vallotton è stata un'avventura di giovinezza da cui sono stati capaci di estrarre quel tanto di confacente al loro temperamento per diventare immortali. Lausanne ha dedicato una galleria d'arte a Vallotton, Le Canet, un museo a Bonnard. Nel 2016 alla Gare d'Orsay c'è stata una mostra grandiosa sui Nabì. Moltissimi lavori di Bonnard, Huillard e Vallotton sono patrimonio del Dorset e del Saint-Pompidou. Sono sparsi in tutto il mondo i musei e collezioni private. Europa inizi del Novecento. All'aprirsi del nuovo secolo l'Europa era nel pieno della belle époque. Erano gli anni del trionfo di una società borghese, dinamica, ricca, intraprendente, sicura di sé e della propria possibilità di progresso grazie all'incessante innovazione scientifico-tecnologica. In parte ciò era vero, in parte era frutto di una percezione illusoria perché l'Europa era ricca ma con stridenti diseguaglianze economiche e sociali. Parigi si conferma come la culla del rinnovamento artistico, scenario di forti trasformazioni culturali, un rinnovamento artistico in tutti i campi, caratterizzato per la pittura da un forte anticonformismo. I soggetti sono più o meno gli stessi, paesaggi, vedute cittadini, ritratti interni, ma cambia il modo con cui vengono trattati, infatti sono opere controcorrente rispetto alle forme imposte dalla società borghese. In Francia e in Germania prende forma l'espressionismo. Nascono due gruppi, i Faux e il Diebrücke, che pur essendo distanti, la pittura dei francesi è priva di significati psicologici e sociali mentre i tedeschi danno un contenuto sentimentale alle loro violenze espressive, sono accumulati dalla sintesi della forma e dalla violenza dei colori. In questo racconto parleremo dei Faux. Cominciamo dal nome. Faux, cioè Belve, nasce da un insulto che si trasformò in un marchio di successo. Parigi, 1905, salone d'autunno. In una sala sono esposte le opere di cune artisti di avanguardia, Matisse, Derain, Rouault, Marquet, Dufy e Devlamic. Al centro della sala è esposta una statua di uno scultore classico che si ispira alla cultura fiorentina. Entra il critico Louis Vauxel e inorridito esclama, mon dieu, Donatello tra le belve. Nasce così il marchio Faux. I maggiori rappresentanti sono stati Derain, Devlamic e Matisse, uniti da amicizia e dall'amore per la sperimentazione. Derain e Devlamic si conoscono per caso in treno, si frequentano e decidono di andare a dipingere a Coyour. Coyour è un piccolo porto della Francia del Sud dove incontrano Matisse, dipingono assieme, utilizzano in maniera iperespressiva il colore puro, concentrandosi sull'immediatezza visiva e sugli aspetti cromatici. André Derain, studia Ingegneria a Parigi e si iscrive all'Accademia Julien. Rispetto agli altri pittori del gruppo è più misurato e nei ritratti semplifica la figura in modo meno antinaturalistico. Anche nei paesaggi accosta toni caldi e freddi in modo contrastante. Le pennellate sono ben visibili per rendere meglio la forza degli accostamenti. In questi dipinti, eseguite durante un soggiorno londinese, usa una tecnica personale di puntimismo, un trionfo del colore sulla forma. Dipinge anche qualche immagine simbolica come questa danza e paesaggi più formali, utilizzando sempre colori audaci, toni ardenti ma molto raffinati. In questo riquadro, il ritratto di Madame Matisse in chimono e vele rosse, dipinto recentemente venduto per 20 milioni di dollari in un'asta di Christis. Nel 1908 si scioglie il gruppo. Derain rompe anche l'amicizia con Matisse e nel 1910 si avvicina a Georges Braque, cubista ed ex-fovista. Si interessa al cubismo, non aderisce, ma modifica la sua tavolozza. Ritorna poi ad uno stile più tradizionale, ma la sua produzione è disomogenea e contaminata da diversi stili come vediamo in queste immagini. Dopo il 1924, in un clima culturale dove prevalgono i valori della solidità e della tradizione, si dedica al ritratto, un tipo di pittura che non lo soddisfa, ma che gli consente una certa giatezza perché diventa il pittore di moda della buona società parigina. Derain era un bravo pittore, ma sempre alla ricerca di uno stile personale. Un uomo di cultura, illustratore, incisore, scultore, ceramista, scenografo e costumista. Rifiutò la direzione della Scuola di Belle Arti di Parigi e nel 1954, quasi cieco, morì investito da un'auto. Maurice de Blamich, figlio di affermati musicisti, fu indirizzato agli studi classici, ma studiò anche musica e violino e si dedicò alla pittura come autodidatta. Era anche uno sportivo e per mantenersi, oltre ad offrirsi come violinista, partecipava a delle gare ciclistiche a premi. A causa delle sue scarse entrate non poteva comprare i colori, li raschiava dai vecchi dipinti e li rivitalizzava con dei solventi. L'incontro con Derain, con cui rimase amico per tutta la vita, cambiò la sua esistenza. Infatti, dopo lo scalpore della mostra del 1905 a cui partecipò con Derain e Matisse, il mercante d'arte Ambroise Vollard capì che quella pittura semplice, accesa e violenta poteva essere un ottimo investimento. Tre anni dopo organizzò una sua personale e De Blamich fu definitivamente lanciato. Il suo modo di dipingere è aggressivo. Se prima rigenerava i colori, ora li spreme direttamente dal tubetto. Le sue pennellate non sono armoniche, ma comunicano forza e movimento come testimoniano queste immagini. In questo riquadro, gli alberi rossi, un esempio di tecnica fauve. Rispetto ad altri dipinti, gli alberi non perdono la loro valenza naturalistica. Di fianco il rimorchiatore, un dipinto dal colore espressivo che ci rimanda alle opere di Van Gogh. Il dipinto è stato battuto all'asta nel 2012 per 6 milioni di euro. L'influenza di Van Gogh è evidente in queste due vedute di campagna. Van Gogh era il pittore più amato da De Blamich. Dopo l'esperienza fu vista, Comederen è attratto dal cubismo e contemporaneamente dai lavori di Cézanne. In questa fase spegne notevolmente i colori della sua tavolozza. Dopo la guerra mondiale lascia Parigi. La sua pittura ora è influenzata dall'espressionismo tedesco. Sono tutte opere che risentono profondamente della durezza della guerra. I toni sono crudi. Le case hanno un aspetto sinistro che denota un forte pessimismo. De Blamich svolse anche un'antensa attività letteraria. Pubblicò più di 20 libri tra romanzi, poesie e saggi. A seguito di alcune pubblicazioni nel 1945 venne emarginato perché accusato di collaborazionismo con i nazisti. Dopo la morte dell'amico De Blamich si ritira nella sua tenuta a Tourière sulla Loira, dove muore nel 1958. Scrisse la sua autobiografia Svolte pericolose e ciò che voleva inciso sulla sua lapide. Non ho chiesto niente, la vita mi ha dato molto. Ho fatto ciò che ho potuto e ho dipinto ciò che ho visto. A re Matisse, nel panorama pittorico dei primi anni del Novecento, Matisse si rivela una personalità fondamentale, una figura che riesce a fare confluire tutte le tendenze della metà dell'Ottocento in uno stile nuovo. Per questo viene considerato una sorta di vertebra che unisce l'Ottocento al Novecento. Studia legge, ma scopre il paradiso nella pittura. Segue le lezioni di Gustave Moreau, il pittore di moda, simbolista anticipatore del surrealismo, che oltre a insegnare tecnica pittorica predica la libertà espressiva. Durante un soggiorno in Bretagna, studia i lavori di Gauguin, Van Gogh e Cézanne. Poi si sposta al sud della Francia e resta stregato dalle luci e dai colori del Mediterraneo che lo indirizzano a concludere che un dipinto deve comporsi solo di colore, senza ricercare verosimiglianze con la natura, ed il colore deve nascere dal proprio sentire interiore. Al Salone d'Autunno del 1905 espone due opere, Finestra a Coyour e Donna con Cappello. Destano entrambi scalpore. La finestra riassume la ricerca pittorica dell'artista. Nell'opera coesistono il divisionismo di Signac, il sintetismo di Gauguin e l'esaltazione solare del colore propria del fugismo. Nella Donna con Cappello La palette di colori del ritratto vira dal verde al giallo, dal blu al viola, dal bianco al rosso. Le grosse pennellate stese e sovrapposte hanno un aspetto di scarsa raffinatezza. Tuttavia l'immagine di Amélie Matisse, in virtù della forza cromatica delle pennellate brute e della marcate linee di contorno, trasmette una forte energia ed espressività che fino a quel momento si era avuta solo nelle opere di Van Gogh o di Gauguin, due artisti che influenzarono l'opera del maestro. Le pennellate di verde sul volto di Amélie sono antinaturalistiche, ma grazie a quest'uso incisivo del colore puro, il viso di Amélie prende volume senza ricorrere al chiaroscuro. Le opere di Matisse sono bidimensionali, giocate solo su altezza e larghezza, come quelle di Gauguin. In questi due lavori si nota come il pittore riesca a combinare l'ordine con la fantasia, il rigore stilistico con la libertà creativa. Niente prospettiva, niente ombre, niente sfumature. Sono immagini semplici, le forme sono stilizzate, il colore non è obbligatoriamente conforme alle tinte reali dell'oggetto, ma usato per il suo valore, in rapporto agli altri colori e al posto in cui si colloca nello spazio. I colori sono intensi e vivaci, come non mai si era visto in pittura. Matisse fu sostenuto da collezionisti d'arte, in particolare da Gertrude Stein, che apprezzò moltissimo il lavoro del pittore e collezionò moltissimi suoi dipinti. Alcuni di questi sono esposti al Museo di Baltimora. Matisse fu molto apprezzato ed amato da Ernest Hemingway e da Ezra Pound. Il pittore ebbe anche un lungo rapporto commerciale con Sergei Schkuking. Per lui realizzò nel 1910 la danza, la sua opera più famosa. La danza è uno dei più significativi capolavori del Novecento. Il quadro misura 4 metri di lunghezza per un'altezza di circa 3 metri ed è esposto all'ermitage. Simbolicamente questo dipinto rappresenta la gioia di vivere e la felicità di una danza musicale. I ballerini colorati di rosso intenso contrastano sul blu del cielo ed il verde della terra. La semplicità della composizione, l'accurata scelta dei colori stesi in ampie zone, sintetizza tutte le caratteristiche della pittura di Matisse e la sua vicinanza al cloisonnismo di Gauguin. In questo riquadro una prima versione del dipinto è esposta al MoMA di New York. Rispetto al precedente ha più un aspetto preparatorio. Diferisce dei colori e le figure esprimono decisamente un minor dinamismo. Il pittore non abbandonò mai il radioso cromatismo della sua tavolozza, ma riuscì a dominarlo con la sua indiscutibile capacità nel disporre il colore nello spazio, ma per raggiungere l'armonia passò attraverso diversi stadi di perfezionamento come nei suoi interni eseguiti a Nizza. I viaggi in Russia ed in Marocco aprirono nuove orizzonti a Matisse e a Nizza realizzò una serie dodalische inserite in eleganti e sofisticati ambienti di gusto orientale. La modella era sempre la stessa a Henriette da Nicarrère nell'immagine con il pittore. Anche in questi dipinti Matisse definisce lo spazio attraverso contrasti ben calcolati di colore. Le figure hanno una fisicità plorompente, le pose si ispirano ai lavori di Ingrè. Il dipinto in queste immagini è stato battuto recentemente ad un'asta di Christis per 90 milioni di dollari. Picasso e Braque ammiravano Matisse e furono molto impressionati dall'opera di Matisse eseguita nel 1907. La considerarono come un lavoro che favoriva la maturazione delle idee cubiste. Questo quadro ossessionò talmente Picasso che in risposta a questa tela realizzò le damoiselle d'Amignon. Picasso era molto geloso di Matisse mentre Matisse alla sua morte lasciò in eredità a Picasso alcune delle sue odalische. Matisse si dedica anche alla scultura. A sinistra una fotografia che lo ritrae al lavoro nel suo studio e a destra alcune statue di bronzo. Alla fine del 1940 il pittore, infermo e costretto su una sedia a rotelle, si dedica ad una nuova forma d'arte, i papiers de coupé. Dipingeva a guasce dei fogli di carta, poi estraeva da queste delle forme utilizzando le forbici al posto del pennello. Figure di differenti forme ritagliate ed incollate poi su cartoncini. Utilizzando questo metodo riuscì a realizzare anche una serie di lavori di grandi dimensioni, i nudi blu. Sono forme dal taglio semplice, molto stilizzate, con un tocco di erotismo acquiescente. Sono di colore blu il colore che per Matisse indicava distanza e volume. Collaborò con l'editore svizzero Schira, illustrando le polesie di Malarmé e di Ronsard, e l'Ulisse di James Joyce. Collaborò anche con le edizioni Thériad, illustrando le gesta di Charles d'Orléans. Thériad era casa editrice che nel 1947 ha pubblicato il libro d'arte Jazz, che includeva 20 stampe a colori dei papiers de coupé di Matisse e le sue note scritte a mano. In commercio esiste una riedizione Mondadori del 2012. Il costo del volume si aggira attualmente sui 280 euro. Durante la sua grave malattia fu assistito da una giovane infermiera che successivamente si fece suora e chiese all'artista di progettare una cappella per il convento di Saint-Paul-de-Vence. Matisse studiò il progetto con l'architetto Perret. Sviluppò i disegni dei pannelli decorativi, i dipinti al suo interno e le vetrate della cappella, l'altare e tutto l'arredo sacro, compreso gli abiti del celebrante. Quest'opera, a detta di Matisse, fu il capolavoro della sua esistenza. La sua stupefacente vitalità e la sua inesauribile forza di immaginazione sono sintetizzate in questa sua frase «Non si può impedire di invecchiare, ma impedire di diventare vecchi». La sua stupefacente vitalità e la sua inesauribile forza di immaginazione